ciao ragazzi un saluto a tutto il gruppo di caravano autonoma e libera ecco appena effettuato l'operazione di aggancio ormai con dieci minuti tutto pronto lasciando la rolotta già pronta si si parte ecco preparato tutto domani saremo la giornata è libera faremo una notte fuori e niente ecco vi voglio far vedere pure la roulotte modalità notte e con tutte le lucette accese bella e niente anche per farvi vedere che anche di notte si può fare tranquillamente l'operazione molto facile poi se volete vi faccio un video proprio su come si aggancia la roulotte i controlli da fare fatemi sapere nei commenti ecco qua pronta la partenza ricordo di iscrivervi al canale di youtube e scrivervi sul gruppo e sulla pagina facebook e seguitemi sul mio profilo questo è la visuale ciao ragazzi al prossimo video